23 gennaio, oggi taglio del nastro al rinnovato mercato delle erbe che da circa una decina di giorni si è gradualmente trasferito negli spazi di via Gavardini, spazi ricavati nella corte di Palazzo Gradari. Un momento molto atteso soprattutto per il significato di questo mercato che ha circa 150 anni di età della sua permanenza nel complesso del San Domenico, un trasloco obbligato per i lavori di restyling del San Domenico che si è concretizzato in questo trasferimento, oggi applaudito praticamente dall'intera giunta comunale riunita per l'occasione. Oggi siamo qui per inaugurare un mercato che è 150 anni che vive nella nostra città ed era importante mantenere il valore storico. La settimana scorsa abbiamo inaugurato Pesaro Capitale della Cultura e è anche giusto mantenere la tradizione della nostra città anche per i turisti e anche perché siamo vicini alla Casa Rossini. Ritorno a ringraziare tutti gli uffici che hanno lavorato e hanno capito l'esigenza di dare continuità a questi ambulanti che sono sette e automaticamente si crea un indotto, un indotto perché ci sono i grossisti, c'è un mondo che gira intorno a un mercatino e noi in tutto questo ci siamo stati e abbiamo fatto sì che il mercatino a Pesaro continui. Poi per le coperture abbiamo finanziato circa 40.000 euro, abbiamo dovuto coprire una parte interna dove c'è il pane e i formaggi e ricavare uno spazio per loro perché essendo materie che si possono rovinare e poi per il resto la frutta e la verdura rimane all'aperto come tutti i mercati, in fondo sono degli ambulanti e arriveranno anche due gazebi e altre tende per coprire la parte del materiale che hanno bisogno che sia coperta. La scelta di questa destinazione di via Gavardini è arrivata dopo lunga concertazione fra ambulanti, associazione di categoria e comune con gli ambulanti che oggi si esprimono così su questa nuova location. E qua come sta andando? Tutto bene dai, siamo sulla linea del vecchio mercato, la gente continua a fluire, siamo contenti dai. Solo l'unico problema è la copertura perché io avendo poche robe, tutto qui però non c'ho niente per coprirmi e allora manca quella, se no il posto è carino, poi siamo tutti qui, siamo in pochi, come una famiglia ecco. Adesso devo dire che va bene per uno insomma, il posto è bellino, a parte questo tetto che ancora ci dobbiamo adattare, solo per il resto ci siamo sistemati bene, la gente risponde, viene, i clienti, va bene insomma, dai sono contenti, non è che ha cambiato di chissà quanto insomma. E mentre si inaugura il nuovo mercato delle erbe, il vecchio mercato delle erbe, nel complesso di San Domenico, è in procinto di una vera rivoluzione per un cantiere che partirà la prossima settimana. In Tranevivo un cantiere importante per la città, un'opportunità anche di riqualificare, riportare vita anche in un'asse importante del centro storico, di via Giordano Bruno in particolare, perché la prossima settimana inizieranno i lavori, consegneremo il cantiere, la ditta che ha vinto l'appalto per realizzare 8 milioni e 400 mila euro di lavori di recupero e restauro del palazzo San Domenico, il palazzo per intendersi dietro le poste dove prima era situato il mercato delle erbe che oggi inauguriamo qua. Un lavoro importante come si diceva perché porterà l'università e porterà un polo di giovani anche al piano terra, uno spazio pensato per far vivere il cibo, il food, quindi pensato anche come un luogo che possa vivere la mattina per valorizzare prodotti tipici locali, quindi ripensando anche un mercato ortofrutticolo, un mercato in chiave moderna come ce ne sono oggi altri in Italia e in Europa e farlo vivere poi tutta la giornata, quindi pensandolo anche come un luogo che si trasforma durante le ore pomeridiane e serali per l'aperitivo e per la cena, un polo di aggregazione anche che mette i giovani al centro e ci consentirà anche, come dicevo, di recuperare un'asse importante di piazza del popolo perché via Giordano Bruno è un'arteria importante per la città, oggi in grande sofferenza e domani con il recupero del San Domenico potrà essere una via importante proprio all'interno del centro storico.